Ci spieghiamo, andiamo con un po' Si chiama? Andiamo con la propria capitale Quando la propria capitale si va a tolokà è la mità del campo e prende l'equipo differente al suo Vale? Pagate un valore L'offettivo qual'è? Tu, per esempio, va a te affrontare l'equipo, potrai conseguitare con il valore all'ultimo della fila Se la dà all'ultimo della fila viene già che la cosa deve Se la dà all'ultimo della fila però non solo per l'ultimo della fila Se la dà all'ultimo della fila Se la dà all'ultimo della fila potete fare cinza per aiutare l'ultimo della fila Se la dà all'ultimo della fila Se la dà all'ultimo si è un gruppo che si è cruzato dentro del campo il capitale non può accattare Va al final, mette il valore del lago Anota un punto e volete accattare All'ultimo della fila 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.